Le relazioni pericolose di Choderlò della Clos Parte seconda, 51, la Marchesa di Merteuil al Visconte di Valmont Davvero Visconte, siete insopportabile, mi trattate con la stessa leggerezza, quasi fossi la vostra amante Sapete che finirò per arrabbiarmi sul serio e che sono già di un umore spaventoso Insomma, dovete vedere Danceny domani mattina Sapete com'è importante che io vi parli prima di questo incontro E senza scomporvi per niente mi fate aspettare tutta la giornata per correre chissà dove A causa vostra sono arrivata indecentemente in ritardo da Madame de Volange E tutte quelle vecchie dame mi hanno trovato semplicemente scandalosa Così ho dovuto farla carina con loro tutta la sera per calmarle Perché non bisogna far arrabbiare le vecchie signore Sono loro che fanno la reputazione delle giovani Adesso è luna dopo mezzanotte e invece di andare a letto, come muoio dalla voglia di fare Bisogna che vi scriva una lunga lettera che raddoppierà il sonno per la noia che mi procurerà Ritenetevi molto fortunato che non abbia il tempo di rimproverarvi di più Non crediate però che vi perdoni e solo perché ho molta fretta Ascoltatemi dunque, mi sbrigo Se avrete appena un po' di furberia potrete riuscire domani a ottenere la confidenza di Danceny Il momento è favorevole, siamo in disgrazia La piccola è stata a confessarsi Come una sciocca ha raccontato tutto E adesso è ossessionata a tal punto dalla paura del diavolo Che vuole assolutamente rompere con Danceny Mi ha raccontato tutti i suoi piccoli scrupoli con una tal foga Che mi ha fatto chiaramente capire come le abbia montato la testa Mi ha fatto vedere la sua lettera di rottura Un vero predicozzo Ha chiacchierato con me per un'ora senza dire una parola che avesse un minimo senso comune Tuttavia mi ha messo ugualmente nei pasticci Capite che non potevo rischiare di scoprirmi con una testa così balzana Comunque in mezzo a tutto quel chiacchiericcio ho capito che non ama meno il suo Danceny E ho notato perfino che è caduta in uno di quei trabocchetti Che in amore non mancano mai Tormentata dal desiderio di pensare sempre al suo innamorato E dal timore di dannarsi pensandoci Ha escogitato di pregare Dio perché glielo faccia dimenticare Così rinnovando questa preghiera Ogni istante della giornata ha trovato modo di potersi occupare di lui continuamente Con qualcun altro un po' più navigato di Danceny Questo episodio insignificante sarebbe magari più favorevole che contrario Ma quel ragazzo è un tal Steladon che se non l'aiutiamo Impiegherà tanto di quel tempo a superare più banali ostacoli Che non ne resterà più a noi per realizzare i nostri progetti Avete ragione, è un peccato Spiace anche a me che sia lui l'eroe di questa avventura Ma che volete farci quello che è fatto e fatto? La colpa è vostra Le ho chiesto di farmi vedere la risposta Mi ha fatto pena Lui le fa dei ragionamenti che non stanno né in cielo né in terra Per dimostrarle che un sentimento involontario non può essere colpevole Come se non cessasse di essere involontario Nel momento che si smette di contrastarlo Questo concetto è così semplice che ci è arrivata da sola perfino la ragazzina Si lamenta della propria infelicità in modo estremamente commovente Ma la sua sofferenza è così dolce E sembra così intensa e sincera Che mi pare impossibile che una donna che abbia l'occasione Di portare a tal punto di disperazione un uomo Senza rischiare quasi niente Non sia tentata di togliersene la voglia Le spiega inoltre che non è un monaco come lei credeva E questa è la sola cosa intelligente che dice Perché se una donna volesse proprio darsi agli amori monastici Non darebbe certo la preferenza ai cavalieri di Malta In ogni modo invece di perdere tempo i ragionamenti Che mi avrebbero compromesso senza riuscire a convincerla Ho approvato la rottura Ma ho detto che in simili casi era più onesto dire le proprie ragioni a voce Invece che per iscritto E che si usava anche a restituire le lettere E quelle piccole cianfruzzaglie che ci si era scambiati Così fingendo di condividere le sue idee L'ho convinta a dare un appuntamento a Danzeny Immediatamente ho combinato l'ora e il luogo E mi sono presa l'incarico di convincere la madre A uscire senza farsi accompagnare dalla figlia Domani pomeriggio quindi sarà il momento decisivo Danzeny è già informato Ma santo cielo se vi capiterà l'occasione Convincete questo bel pastore A essere meno sentimentale E ditegli Perché bisogna insegnargli tutto Che il solo modo di vincere gli scrupoli E di non lasciare niente da perdere a chi ne ha Del resto perché questa ridicola scena non si ripeta Non ho mancato di sollevare qualche dubbio Nella ragazzina Sulla discrezione dei confessori E vi assicuro che adesso sta pagando La gran paura che ha fatto prendere a me Con il terrore che il confessore Vada a dire tutto a sua madre Spero che dopo aver chiacchierato ancora una volta o due con lei Non andrà più a raccontare al primo venuto le sue sciocchezze Addio Visconte Impossessatevi di Danzeny e guidatelo Sarebbe vergognoso che non riuscissimo a fare ciò che vogliamo Di quei due ragazzi E se troviamo più difficoltà di quanto ci aspettiamo Per avvivare il nostro zelo Pensiamo Voi che si tratta della figlia di Madame de Volange E io della futura moglie di Gercourt Addio 2 settembre 52 Il Visconte di Valmont alla presidentessa di Turbel Mi impedite signora di parlarvi del mio amore Ma dove trovare il coraggio necessario per obbedirvi Posseduto unicamente da un sentimento che dovrebbe essere dolcissimo E voi rendete tanto crudele Depresso per l'esilio in cui mi avete condannato Vivendo solo di privazioni e rimpianti E in preda tormenti sempre più dolorosi Dato che mi rammentano continuamente la vostra indifferenza Dovrò perdere anche la sola consolazione che mi rimane E quale altra può esserci per me Se non quella di aprirvi qualche volta la mia anima Che voi riempite di angoscia ed amarezza Distogliete lo sguardo per non vedere le lacrime che fate versare Rifiuterete perfino l'omaggio dei sacrifici che esigete Non sarebbe più degno di voi della vostra anima dolce e onesta Compattire un'infelice Che tale è solo per causa vostra Che a crescerne le sofferenze con un divieto ingiusto e tanto severo Fingete di aver paura dell'amore e non volete rendervi conto Che voi sola siete la causa dei mali che gli rimproverate Ah certo, questo sentimento è amaro Quando l'oggetto che l'ispira non lo condivide Ma dove trovare la felicità Se non in un amore corrisposto La tenera amicizia La confidenza che è la sola senza riserve Le sofferenze addolcite I piaceri accresciuti L'incantevole speranza I ricordi deliziosi Dove trovarli se non nell'amore E voi lo calunniate, voi, che per godere di tutti i beni che vi offre Non avreste altro da fare che non rifiutarlo Mentre io dimentico le pene che soffro per difenderlo Mi obbligate anche a difendere me stesso Perché mentre consacro la mia vita ad adorarvi Voi passate la vostra a trovarmi dei difetti Già mi credete volubile e bugiardo E abusando a mio danno di qualche errore che io stesso vi avevo confessato Vi compiacete di confondere quello che ero allora con quello che sono adesso Non contenta di avermi lasciato in balia del tormento Di vivere lontano da voi Aggiungete una crudele ironia riguardo a piaceri Verso i quali sapete perfettamente come mi avete reso insensibile Non credete né le mie promesse né i miei giuramenti Ebbene, mi resta ancora un garante da offrirvi Su cui non avrete dubbi Voi stessa Non vi domando che di interrogarvi con tutta sincerità Se non credete al mio amore Se anche per un solo istante dubitate di esserla sola a regnare sulla mia anima Se non siete sicura di aver fatto vostro per sempre il mio cuore Finora è vero, troppo volubile Acconsentirò a sopportare la pena di questo errore Piangerò ma l'accetterò senza proteste Ma se invece, rendendoci entrambi giustizia Siete costretta ad ammettere che non avete e non avrete mai rivali Non obbligatemi più ve ne supplico A combattere delle chimere E lasciatemi almeno questa consolazione Di non vedervi dubitare più di un sentimento Che in realtà non finirà né può finire Che con la mia vita Permettetemi signora di insistere Perché rispondiate con precisione A questo punto della mia lettera Se rinuncio però a difendere Quell'epoca della mia vita Che sembra nuocermi così crudelmente Ai vostri occhi Non è perché mi manchino gli argomenti Che cosa ho fatto dopo tutto Se non abbandonarmi senza resistere Al turbine in cui ero stato gettato Introdotto in società giovane e inesperto Passato per così dire Tra una folla di donne Che si davano un grande affare A prevenire con la loro leggerezza Un giudizio che intuivano sfavorevole Dovevo essere io dunque A dare l'esempio di una resistenza Che nessuna di loro mi opponeva O dovevo punirmi per l'errore di un istante Che molto spesso poi Era stato provocato con una fermezza Che oltre che inutile Sarebbe parsa anche ridicola E quale altro sistema Se non una pronta rottura Può giustificare una scelta vergognosa Ma posso giurarvi Che questa ubriacatura dei sensi Forse questo stesso delirio della vanità Non è mai riuscito a scalfire il mio cuore Nato per l'amore L'intrigo poteva al massimo distrarlo Ma non certo riempirlo Circondato da donne affascinanti Ma spreggevoli Nessuna riusciva a raggiungere la mia anima Cercavo la virtù E mi venivano offerti piaceri Io stesso finii col credermi incostante Invece lo ero solo perché la mia anima è fragile E sensibile Incontrando voi ho chiarito me stesso Ho capito immediatamente Che l'incanto dell'amore Dipende dalle qualità dell'anima Che solo esse possono esaltarlo E giustificarlo Ho anche capito Che mi era ugualmente impossibile Non amarvi O amare un'altra che non foste voi Ecco signora Questo è il cuore a cui temete di abbandonarvi E sulla cui sorte Dovete decidere Ma qualunque sia il destino Che gli riserberete Non riuscirete a cambiare i sentimenti Che lo uniscono a voi Sono inalterabili Come la virtù che li ha fatti sorgere 3 settembre 53 Il Visconte di Valmont Alla Marchesa di Mertoglio Ho visto D'Anceny Ma non ho potuto ottenere altro da lui Che una mezza confidenza Si è ostinato soprattutto A non farmi il nome Della piccola volange Di cui mi ha parlato Come di una ragazza Piena di buonsenso E perfino un po' bigotta A parte questo Mi ha raccontato abbastanza sinceramente Tutta la sua avventura In particolare Gli ultimi avvenimenti Ho cercato di scaldarlo Più che ho potuto L'ho preso molto in giro Per la sua esagerata delicatezza E i suoi scrupoli Ma sembra tenerci molto E non posso rispondere di lui Per il resto Potrò dirvi di più dopo domani Domani intanto Lo porto con me a Versailles E cercherò di tastare il terreno Durante il viaggio L'incontro di oggi Mi dà qualche speranza Può darsi che tutto sia andato Secondo i nostri desideri E che non ci resti al momento Altro da fare Che strappare la confessione E raccoglierne le prove Questo compito sarà più facile A voi che a me Perché la ragazzina Ha più confidenza in voi O meglio E più chiacchierona Il che lo stesso Del suo discreto innamorato Tuttavia farò il possibile Addio mia bella amica Ho molta fretta Non potrò vedervi Né stasera Né domani Se riuscite a sapere qualcosa Scrivetemi una riga Per il mio ritorno Tornerò senz'altro A dormire a Parigi 3 settembre 54 La Marchesa di Merteuil Al Visconte di Valmont Ah sì D'Anceny Da lui Non ci si cava niente Se vi ha detto qualcosa Ha certamente inventato Non conosco nessuno Così stupido Nelle faccende d'amore E mi rimprovero Sempre più La premura Che abbiamo avuto per lui Sapete che per colpa sua Stavo per venir compromessa E in pura perdita Oh me ne vendicherò Lo prometto Ieri Quando sono andata A prendere Madame de Volange Lei non voleva uscire Perché non si sentiva bene C'è voluta tutta la mia parlantina Per farla decidere Immaginavo che D'Anceny potesse arrivare Prima che fossimo uscite Il che sarebbe stato Un bel guaio Perché Madame de Volange La sera prima Gli aveva detto Che non sarebbe rimasta in casa Sua figlia e io Eravamo sulle spine Finalmente siamo uscite E la piccola Nel salutarmi Mi ha stretto la mano In modo così affettuoso Che nel grado Fosse tuttora convinta In buona fede Di dover rompere Le augurai Una serata meravigliosa Ma le mie angosce Non erano finite Eravamo da una certa madame Da appena mezz'ora Quando Madame de Volange Si è sentita male davvero E naturalmente Voleva tornare a casa Io insistevo Per rimanere Avevo paura Che se avessimo sorpreso I ragazzi Come era probabile Le mie insistenze Per far uscire la madre Senza la figlia Sarebbero diventate sospette Ho deciso di spaventarla Sulle sue condizioni di salute Cosa fortunatamente Non molto difficile E sono riuscita A trattenerla Un'ora e mezzo Senza consentire A riportarla a casa Fingendo di temere Che il movimento Della carrozza Potesse farle male Insomma Sono rientrata Allora stabilita E dall'aria vergognosa Della ragazza Che ho notato entrando Ho sperato Lo confesso Che almeno tutte le mie angosce Non fossero state vane Avevo una gran voglia Di sapere Per cui sono rimasta Vicino a Madame de Volange Che si è coricata Molto presto E dopo aver cenato Accanto al suo letto L'abbiamo lasciata Quasi subito Col pretesto Che aveva bisogno Di riposo E siamo passate Nell'appartamento Della figlia La piccola Da parte sua Ha fatto tutto quello Che mi aspettavo da lei Svanite gli scrupoli Nuovi giuramenti Di amarsi sempre Eccetera eccetera Insomma Si è comportata bene Ma quell'idiota Di Danceny Non si è mosso Di un millimetro Da dove era O si può litigare Finché si vuole con lui Non c'è nessun pericolo A far la pace La piccola La piccola comunque giura Che lui voleva andare Più in là Ma lei ha saputo difendersi Scommetterei che inventa Di sana pianta O cerca di scusarlo Sono quasi sicura Infatti Mi è venuta la fantasia Di sapere di quale genere Di difesa Sia capace E di discorso in discorso Non sono che una donna Io Le ho montato la testa A tal punto Insomma Potete credere Nessuno è più ricettivo di lei Alla sorpresa dei sensi È veramente adorabile Questa cara ragazza Meritava un altro innamorato Ma avrà almeno Una buona amica Perché io mi sto affezionando Sinceramente a lei Le ho promesso Di insegnarli a comportarsi E credo che manterrò la parola Spesso ho sentito Il bisogno Di avere una donna Con cui confidarmi E preferirei lei A un'altra Ma non posso far niente Finché non sarà Come deve essere Ecco una ragione di più Per volerne ad Anseny Addio Visconte Non venite da me domani A meno che non sia al mattino Perché ho ceduto Alle insistenze Del mio cavaliere Per una serata alla casetta 4 settembre Per una serata alla casetta Grazie a tutti.